Ciao a tutti, io sono una persona molto simpatica e come ha detto Cedentano nel suo film, se avessi degli amici lo vivebbero. Sonderò qualcosa di rock lento, rock melodico. Cedentano nel suo film, se avessi degli amici lo vivebbero. Cedentano nel suo film, se avessi degli amici lo vivebbero. Cedentano nel suo film, se avessi degli amici lo vivebbero. Vabbè, io sono un tipo a cui piace divertirsi, ma non ne ho molte occasioni perché è stato male e questa è la verità.